La Ipsos è la più importante agenzia di sondaggi che opera in Italia. Per capirci è quella che collabora con la RAI che ogni martedì nella trasmissione Ballarò con il suo capo Nando Pagnoncelli propone i sondaggi al conduttore Floris di Ballarò. Abbiamo commissionato alla Ipsos un sondaggio sulle elezioni amministrative di Agrigento. È un sondaggio importante, ci dirà qual è il gradimento elettorale dei candidati che abbiamo proposto. Giuseppe Arnone, Marco Zambuto, Angelo Capodicasa, Salvatore Iacolino, Paolo Minacori, Roberto Di Mauro, ma non solo. Ci dirà anche qual è il profilo d'immagine di queste persone, cioè di Arnone, Zambuto, Capodicasa, Iacolino, Minacori e Di Mauro. Ci dirà chi secondo gli agrigendini è il più attivo per il rispetto della legalità, chi secondo gli agrigendini tra queste persone politiche conosce meglio i problemi della città di Agrigento, chi è più vicino ai problemi dei cittadini di Agrigento, chi può fare di più per il futuro di Agrigento, chi è il più capace tra Arnone, Zambuto, Capodicasa, Iacolino, Minacori e Di Mauro, chi è il più capace di decidere da solo senza farsi condizionare da interessi lobbistici particolari o partitici. O ancora, chi è il più autorevole tra queste persone, da Arnone a Di Mauro, agli occhi dell'opinione pubblica siciliana, chi è la persona più seria di cui si fidano di più gli agrigendini, chi è quello che ha fatto di più per Agrigento in questi anni. È un sondaggio molto importante perché ci consentirà di capire molte cose rispetto a quello che sta avvenendo in questi giorni. Il sondaggio si completa anche con l'analisi di questi scontri diretti, cosa avverrebbe se al ballottaggio andassero Arnone e Zambuto, cosa avverrebbe se al ballottaggio andassero Arnone e Iacolino, cosa avverrebbe se al ballottaggio andassero Arnone e Di Mauro. Di qua alla fine della settimana tutti gli agrigendini avranno le risposte che la città di Agrigento, consultata dalla agenzia Ipsos di Nando Pagnoncelli, ha ritenuto di fornire. Sapremo, cari amici di Agrigento, quello che voi, cittadini di Agrigento, pensate di noi politici. Vi do qualche anticipazione. secondo il 76% degli agrigendini la città sta andando nella direzione sbagliata, secondo l'11% nella direzione giusta. Il resto non sa rispondere. O ancora, noi agrigendini sappiamo al 99% chi è Marco Zambuto, è il più conosciuto di tutti. Poi viene Giuseppe Arnone, è conosciuto dal 95% della popolazione. Dopo ancora Roberto Di Mauro, conosciuto dall'83%. L'ultimo è Salvatore Iacolino. Sanno chi è? Soltanto il 71% degli agrigendini.